Sono André Gnesotto, sono team leader del Kaiser Promotion Office. Il KPO è un gruppo di giovani che lavora in team interfunzionali all'interno delle divisioni aziendali. Il nostro obiettivo è quello di identificare ed eliminare gli sprechi, cioè quelle attività che non hanno valore aggiunto e per cui il cliente non è disposto a pagare. L'esperienza più bella in Pietroferentini per me è stato il viaggio studio di un mese in Giappone, in cui sono stato accompagnato dai nostri sensei, cioè i maestri di scuola Toyota, a visitare le aziende eccellenti dal punto di vista gestionale, produttivo e sull'innovazione. Quello che ho visto subito è che avevamo moltissima strada da fare, ma nonostante questo la direzione è stata subito chiara, ho capito cosa avremmo dovuto fare per i prossimi anni e questo mi ha aiutato molto a guidare e supportare i nostri team di miglioramento. Ci sono tantissime opportunità formative in ambito Lean in Pietroferentini. Andiamo dalla partecipazione in prima persona ai progetti di miglioramento, alle settimane Kaizen con cadenza mensile all'interno degli stabilimenti produttivi e alle academy interne che sono state sviluppate da Pietroferentini come master di primo e di secondo livello. Quindi affrontiamo tematiche di più Lean Basic e Lean Advanced. Consiglierei di lavorare in Fiorentini perché è un'azienda giovane, un'azienda dinamica. Ogni giorno ci sono nuove sfide, nuove opportunità, nuovi progetti, nuove responsabilità da prendersi e quindi questo si traduce in una crescita personale, professionale molto molto veloce.